Io credo che il territorio si sia espresso rispetto alla volontà di procedere con questo evento. Credo che, come dicevo anche prima, un amministratore debba essere in grado di ricucire e quindi superare quelle che sono le critiche legittime. Credo che una scelta sia stata fatta. Il dossier è pronto e adesso stiamo competendo con le altre città. Quindi continueremo a lavorare affinché i punti più difficili, penso al tema del debito, di non fare debito, penso al fatto che non ha un impatto ambientale, possano essere superati e garantiti rispetto alla proposta che facciamo. Credo che il territorio evidentemente si sia espresso e la città e non solo, anche i comuni olimpici abbiano assolutamente intenzione di portare avanti questa candidatura e quindi io lavorerò in questo senso. Grazie.